ciao sono valentina nobili e questo è permacultura con te il podcast sulla permacultura mi ritengo una persona molto razionale che analizza riflette e cerca di comprendere e confesso di avere grandi difficoltà nel mettere in pausa la corteccia cerebrale e nel lasciarmi guidare dal cervello primitivo sede degli istinti primari e del sentire questa difficoltà emerge chiaramente nella chiacchierata che sto per proporti e che devo dire mi causa un po' di imbarazzo con Kutluhan Ozdemir contadino fondatore della rete per l'agricoltura naturale della fattoria Shizen nelle Marche e della ONG Natural Farming Center in Grecia divulgatore dei metodi di agricoltura naturale professati da Mazanobu Fukuoka Kutluhan si muove infatti su una lunghezza d'onda molto diversa dalla mia perché lui invece è guidato dal sentire Rubi Navarago volontario della rete per l'agricoltura naturale ha partecipato alla nostra chiacchierata ed ha fatto da anello di connessione tra questo sentire e la mia razionalità per provare a spiegare l'essenza dell'agricoltura naturale fondata sul concetto del non fare prima di cominciare ti ricordo che puoi seguire permacultura con te su facebook instagram e youtube ti invito anche ad iscriverti al podcast a mettere like commentare e condividere i contenuti sui social media azioni semplici ma importantissime per aiutarmi a portare avanti questo progetto ora ti lascio all'intervista con Kutluhan e Rubina a dopo buongiorno Kutluhan Rubina benvenuti a permacultura con te Kutluhan raccontami un po chi sei io sono un contadino in questo momento vivo nelle Marche sono nato e cresciuto in Kurdistan Turchia sono metà kurdo metà turco studiato a Istanbul vissuto quasi dieci anni la e poi quando ho incontrato con Fukuoka ho conosciuto agricoltura naturale volevo scoprire questa strada e vedere gli esempi concreti poi girando conoscendo allievi di Fukuoka e mi sono trovato da contadino diciamo così in questo momento un po più di un anno e mezzo vivo in Italia nelle Marche nella fattoria naturale Shizen Rubina invece raccontami di te io ho conosciuto Kutluhan e l'agricoltura naturale la scorsa estate sono arrivata qua ad agosto e da quel momento piano piano la mia vita si è un po trasformata nella agricoltura naturale dopo aver visto i risultati di che cosa può fare l'agricoltura naturale qui in loco nella fattoria Shizen ho partecipato a un workshop di agricoltura naturale uno dei tanti workshop che Kutluhan dà in giro per l'Italia e ho sentito che era proprio quel connubio di unione di natura e uomo che stavo ricercando da molto tempo in quel momento Kutluhan mi ha chiesto di entrare all'interno della rete agricoltura naturale per organizzare diciamo i suoi workshop in giro per l'Italia e in Europa e da quel momento sono appunto salita in questa barca di matti che lo accompagna in questa in questa missione. Prima cosa facevi Rubina? Ho fatto tante cose diverse l'agricoltura è arrivata relativamente prepotentemente nella mia vita 3-4 anni fa prima un'agricoltura biologica e adesso l'agricoltura naturale appunto è quello che andavo cercando e che non trovavo nel biologico diciamo. Il link per me tra la mia vita precedente diciamo e l'agricoltura naturale è stato il rapporto con il vino perché ho studiato ho fatto cose con il vino prima ed è stato grazie a questo che sono entrata all'interno del mondo dell'agricoltura diciamo. Benissimo quindi mi raccontavi che adesso ti trovi nelle Marche hai menzionato la fattoria e hai menzionato Rubina la rete per l'agricoltura naturale. Ricontami un po' queste due entità che cosa sono che cosa si prefigono. Parto dalla fattoria qua nelle Marche semplicemente un posto dove viviamo e adesso questo fattoria piano piano si sta allargando una famiglia grande diciamo così che siamo più persone. Primo l'obiettivo ovviamente era la nostra lottosufficienza almeno questo era il primo obiettivo per il primo anno che abbiamo superato questo è l'obiettivo e abbiamo più di lottosufficienza diciamo così e ovviamente vendiamo i nostri prodotti viviamo dalla dalla terra diciamo così questo è la applicando il metodo di agricoltura naturale che ci ha dato Massanobu Fukuoka. Quanti metri quadri hai di terra a disposizione per appunto l'autosufficienza alimentare e per la vendita quindi? In totale ci sono due ettari di terreno però precisamente stiamo coltivando su 11.000 metri quadri in questo momento e ogni anno vogliamo allargare questa superficie. Dal punto di vista dell'autosufficienza questo non è neanche una domanda. 1.000 metri quadri di terra è più di sufficiente per l'autosufficienza di una famiglia e ovviamente il resto viene venduto in nostro caso. Raccontami anche della rete. Allora la RAN che è la rete per agricoltura naturale praticamente siamo un gruppo di amici che abbiamo messo il nostro core in questa strada. Applichiamo e divulguiamo agricoltura naturale in giro dall'Italia e anche fuori dall'Italia. L'obiettivo principale è organizzare riforestazioni con palline di semi e coltivare il cibo naturale con il metodo di Massanobu Fukuoka. Diciamo questo è l'attività, questi sono più o meno l'attività principale della rete. Che cosa ti ha affascinato dell'agricoltura di Massanobu Fukuoka? Mi hai detto che hai studiato con dei suoi allievi. Raccontami un po' che cosa ti ha portato da quest'incontro a poi dedicarti a questa pratica e farne la tua vita? Quando ho letto i libri di Massanobu Fukuoka mi sembrava come una utopia, non mi sembrava reale. Il modo di coltivare quello che parlava lui, la filosofia e anche l'applicazione. E volevo vedere in pratica, ho detto vorrei scoprire questo modo di coltivare la terra e anche questo modo di vivere la vita con tutta la sua filosofia. avevo voglia di anche viaggiare e volevo combinare queste due cose. Sono uscito da Istanbul con l'idea di conoscere allievi di Fukuoka. Poi vivendo con loro, passando con tempo con loro, toccando la terra con loro, la vita si è trasformata da solo in questo modo. E cosa ti affascina di questo metodo di coltivazione? Credo che la cosa più importante è la semplicità della coltivazione, semplicità del quanto cibo puoi coltivare non coltivando, diciamo così. Semplicemente lasciare spazio alla natura per manifestare la sua vera essenza e metterti nel servizio di questo processo escono fuori le cose incredibili. Per chi non lo sapesse, spiegaci di che cosa si tratta, insomma, come funziona l'agricoltura naturale? I principi semplicemente sono molto naturale, diciamo, non arare la terra, non usare i fertilizzanti, non diservare e non usare nessun tipo di erbicidi, pesticidi o fungicidi, nessun tipo di sostanza chimica, che non sono neanche i principi, praticamente già è così in natura. Partiamo da qua e anche si chiama agricoltura del non fare, come ha dato questo nome Foucault che diventa unico con la sua filosofia. Infatti, quindi, se l'agricoltura è del non fare, che cosa fai? Vivi la vita, diciamo così, tocchi la terra e vivi la vita con la gioia. Però, insomma, tu parlavi prima delle seed ball, no? Quindi abbiamo detto non arriamo la terra, non usiamo fertilizzanti, non diserbiamo, eccetera. Però tu queste seed ball, delle palline di semi, cosa prendi? Prendi l'argilla, inserisci dei semi e poi le butti. E poi cosa succede? Che cosa fai a partire dal lancio delle seed ball? Possono partire tutto, praticamente alberi, arbusti, ortaggi o anche alcune volte seminiamo il sovescio. Come il processo, semplicemente mescoliamo l'argilla con tutti i tipi di semi e lanciamo alla terra e lasciamo decidere la natura. Che piante, dove deve crescere, senza una logica umana. Semplicemente decide lei come deve muoversi. È l'unica cosa, l'unico obiettivo che noi ce l'abbiamo come contadini è seminare. Dopodiché quindi tu semini, i semi germogliano, quelli che vanno a buon fine vanno a buon fine, quegli altri rimangono a concimare la terra. E tu poi l'unica cosa che fai quindi è raccogliere, giusto? Fai qualcosa seminare e raccogliere. Il scopo del contadino è seminare, il scopo del seme è crescere. Quindi seminiamo e andiamo a raccogliere. Quindi diciamo che è una metodologia di agricoltura che ha portata di tutti veramente. Non serve essere grandi esperti. Sicuramente ci saranno degli insegnamenti che tu trai da questa pratica. Ma in realtà no. Non c'è bisogno di nessun libro, nessun insegnante o nessuno che arriva qui, che ci insegna qualcosa, perché veramente non c'è niente da insegnare. Semplicemente questa è la nostra vera natura. E basta guardare là e vedere queste cose dentro di noi, che ognuno di noi ce l'abbiamo. Non c'è bisogno di nessun insegnante, nessun libro. Avere un attimo di piccola luce che Foucault ci ha offerto questa luce, tenere questa luce nella parte che ce l'abbiamo già dentro e poi camminare in questa strada. Verso dentro, non verso fuori. Rubina, per te sicuramente, dicevi, è stato un cambiamento molto grande rispetto all'agricoltura che conoscevi prima. Spiegaci un po' che tipo di percorso hai fatto. Sì, sicuramente è stato un enorme cambiamento e condivido quello che ha detto Kutlan, che per me l'agricoltura naturale è un ritornare in connessione anche con la vera essenza dell'uomo, che poi è la stessa dell'essenza della natura. La cosa che per me è stata fondamentale è stato trovare l'applicazione concreta di queste parole, che sono bellissime, però mi ho trovata l'applicazione concreta alla materializzazione proprio nella fattoria Schizen. Quando io sono venuta qui la prima volta, ad agosto scorso, camminavo in un giardino di abbondanza, dove ogni singola pianta aveva tantissimo da offrire e dove c'era e c'è una biodiversità incredibile. È proprio possibile sentire e vedere anche con gli occhi, non solamente sentire con i sensi, ma proprio vedere anche con gli occhi e toccare con mano quanto il suolo si stia risvegliando qui. Dunque, una volta che il suolo è risvegliato ed è tornato alla sua natura fertile, quello che diceva Cutron è appunto, è la realtà dei fatti, il contadino deve solamente andare a seminare e poi a raccogliere, non ci sono altre azioni richieste affinché ci possa essere abbondanza, in questo caso appunto, di cibo prodotto in maniera naturale. E qual è l'insegnamento che voi avete tratto? La domanda la faccio a entrambi. Il più grande insegnamento che vi ha dato o quello che più vi resta nel cuore, osservando i tempi e i processi naturali di prima mano? Io credo che non è un insegnamento, è un condivisione, diciamo così, condivisione di un piccolo luce che teniamo forse un attimo di luce per l'entrata della strada che va verso dentro e poi ognuno deve camminare da solo e dentro di questa strada. Quindi non c'è niente da insegnare, parlare, le cose complicate, semplicemente tenere un piccolo luce e dire questa è la strada e che già uno si riconosce subito perché è dentro di sé e se ha voglia cammina in questa strada. Sì, per me, condivido quello che dice Kutuan, la parola che per me risuona di più è riconoscere, perché quando io entro in osservazione senza giudizio della natura ritrovo qualcosa che in realtà c'è già dentro di me. Questo per me è l'insegnamento, se vuoi chiamarlo così, ma non è necessario chiamarlo così, l'insegnamento più grande dell'agricoltura naturale, questo riconoscere. Stupendo. Quindi voi con l'associazione, con la rete, mi raccontavi Kutuan che appunto fate degli eventi di riforestazione con le palline di semi. Spieghami un po' quali sono, oltre ovviamente alla coltivazione naturale, le attività che offrite sul territorio. Allora, abbiamo principalmente due attività che prendono, diciamo, ci mettono nella questa strada. Il primo è la riforestazione con palline di semi. Organizziamo sia noi, sia ogni persona che ha voglia di organizzare una giornata di riforestazione con i suoi amici, vicini o con le persone interessate. Forniamo alcune informazioni piccole per realizzare questi passi. E se necessario anche mandiamo un po' di semi, una linea guida, eccetera, eccetera. L'altra attività che lo portiamo avanti, che è i lavoratori dell'agricoltura naturale, che normalmente durano due o tre giorni, sono tutti gratuiti e aperti per le persone che hanno interesse per coltivare in questo modo. E condividiamo questi passi praticamente. La domanda che mi sorge è, se mi dici che l'unica cosa che fai è prendere i semi, farci le palline, buttarle sul terreno, cosa fai in tre giorni di laboratorio di agricoltura naturale? È un po' una domanda, sembra una domanda un po' stupida forse, però mi hai spiegato questo metodo stupendo su cui poi voglio fare anche altre riflessioni. Però la domanda sorge un po' spontanea. Allora, il primo giorno parliamo della parte più teorica dell'agricoltura naturale, che credo che dà una bella visione per questa strada. Poi il secondo giorno parliamo più dedicato alla parte pratica, che questo normalmente è l'orto. E se c'è l'interessa prepariamo l'orto direttamente sul posto per coltivare. E poi terzo giorno, oppure sempre il secondo giorno, se il laboratorio dura solo due giorni, prepariamo anche palline di semi, che è un momento, una, come dire, una... Celebrazione. Sì, celebrazione, diciamo così. Adesso hai detto un'altra cosa che mi fa venire un'altra domanda. Prepariamo l'orto. Hai detto che non diserbi, non fai niente. E quindi cosa vuol dire preparo l'orto se non devo fare niente? Allora, questo non fare, prima di tutto non fare, non vuol dire abbandonare la terra. Ora, questo vorrei chiarire. Non fare, per dare un esempio molto concreto, molto semplice, diciamo, è come una gallina, che si alza col sole e sta in giro nella fattoria tutto il giorno, cammina lì, va lì, sposta un po' di semi là, lascia un po' di letame. È sempre in movimento, fino al tramonto, però alla fine della giornata non fa niente, non lavora e non ha nessuna intenzione neanche. Semplicemente vive la sua vita naturale. Quindi è così semplice anche la strada per noi. Se uno vive una vita naturale, non deve preoccuparsi di niente, né fertilizzare la terra, né risvegliare la terra, o coltivare cibo. Perché già naturalmente ogni azione che una persona prende, vivendo una vita naturale, offre alla fertilità del suolo, offre la vita naturalmente, come una gallina. E come i giorni che viviamo noi, siamo allontanati tanto dalla natura, anche da una vita naturale. Abbiamo distrutto la terra e andiamo avanti ancora in questa strada della distruzione. Per risvegliare la terra, per arrivare il punto del non fare, semplicemente seminare e raccogliere, ci mette circa 3-4 anni di processo, diciamo così. Comunque non è una tecnica, non è una cosa da insegnare, però stare dietro, essere presente nella fattoria e seminare. E per velocizzare questo processo nell'orto, primo momento, anziché seminare, portiamo un po' di sostanza organica da fuori, stendiamo senza toccare la terra, direttamente sulla terra, se abbiamo un po' di letame o qualsiasi tipo di sostanza organica, stendiamo, poi con una bella pacciamatura e abbiamo già l'orto preparato. Poi dopo il primo autunno che arriva, cominciamo a seminare anche per la nostra pacciamatura, così non portiamo niente da fuori, che crea un sistema già chiuso dentro di sé. Quindi l'obiettivo è quello di essere autosufficienti su tutti gli aspetti della coltivazione, non solo sui prodotti particoli, ma anche sulla produzione appunto del materiale organico, che poi aiuta ad alimentare la terra. Certo, se devo portare sempre la sostanza organica da fuori, vuol dire che per fertilizzare la mia terra, fra virgolette la mia terra, devo togliere la fertilità da un altro pezzo di terra, che non è la strada, non può essere sostenibile neanche. Esatto, quindi creare come ci dice la permacultura un circolo chiuso, in cui noi siamo veramente autosufficienti dal punto di vista, da tutti i punti di vista. Certo, più di autosufficienti, veramente, l'autosufficienza non è neanche una domanda. Certo, bisogna creare abbondanza. E voi l'abbondanza l'avete creata. Mi sembra di capire che la tua terra, la tua fattoria, Kudlohan, sia molto produttiva, dal punto che Rubina è rimasta sorpresa quando è venuta in visita ad agosto e l'ha portata a fare un cambio di vita importante. Questo mi porta a pensare che i metodi di coltivazione che l'uomo ha utilizzato e sta utilizzando tuttora su larga scala sono delle vere e proprie follie, perché se io riesco con un intervento minimo di cura del suolo, come dicevi tu, non si tratta di rimanere sul divano e aspettare che la nostra terra diventi produttiva, ma intraprendere delle piccole azioni come fa la gallina nel pollaio e nell'aia. A quel punto lì tutti i trattori, i fertilizzanti, le grandi estensioni di coltivazioni, la ratura, tutti questi interventi, sembra un po' un paradosso, no? Che ci siano persone che si prendono semplicemente, tra virgolette, cura del suolo e che riescano ad ottenere un ottimo raccolto, le persone, aziende che si impegnano a cercare nuove formule chimiche per il fertilizzante, per costruire i trattori più potenti, quante persone ci sono impegnate nell'industria agricola? Sembra un po' un paradosso, poi cosa ne pensate? Ma questo non è solo nell'agricoltura in realtà, questo è semplicemente da tutti gli aspetti nella nostra vita, perché questo è proprio come funziona la testa lumana. che cerca di sempre migliorare qualcosa, avere un risultato che è meglio della natura. Però questo è già, che già partiamo con l'idea sbagliato, perché tutto è già perfetta, che non c'è niente da fare, non c'è niente da migliorare, però semplicemente stare là è godere la vita, vivere l'abbondanza. E se uno non riesce a entrare in questa l'ottica di, diciamo, nel silenzio della mente, che non produce più pensieri di migliorare qualcosa, e allora cominciano le distruzioni, perché cerchiamo di fare qualcosa lì, qualcosa là, produrre un altro fertilizzante, un trattore ancora più grande, per avere un risultato meglio, fra virgolette, rispetto che può offrire la natura. Però guarda la natura, nessun animale ha bisogno di nessun tipo di chimico, o trattori per avere il suo cibo. Perché noi abbiamo questa necessità? In realtà non ce l'abbiamo, solo creiamo questa necessità per i movimenti della nostra testa, diciamo. Per me l'agricoltura naturale è proprio una specie di cambio di paradigma, nel senso che nel sistema attuale, diciamo che tutto è basato in funzione del risultato, di quello che possiamo ottenere e che deve essere controllabile da noi per poter entrare all'interno di un mercato economico, ad esempio vendendo la frutta e la verdura. Mentre qui è proprio un altro la prospettiva da cui si guarda l'agricoltura. Tant'è che tutti i prodotti che vengono dagli orti naturali vengono venduti qui a 2 euro al chilo, perché è un'agricoltura che richiede talmente poche risorse umane e materiali che non ha senso vendere ad un prezzo più alto di questo, perché già è puro guadagno questi 2 euro che vengono ottenuti per chilo indistintamente da quello che viene venduto, no? Dunque secondo me si tratta proprio di un cambio di paradigma, di dove è l'importanza, dove vogliamo mettere il focus quando si tratta di agricoltura naturale. Come si arriva all'agricoltura naturale? Non puoi arrivare all'agricoltura naturale pensando qualcosa. La strada è viceversa. Devi poi arrivare solo non pensando. Quando rimani senza pensiero, senza nessun tipo di pensiero nella testa, la strada viene sempre più chiara, più visibile. E uno deve avere anche il coraggio di camminare in questa strada del non sapere, senza nessun pensiero. Più piano piano andando avanti in questa strada arrivano i risultati anche visibili dal punto di vista dell'occhio umano. Più Fukuoka non era la prima persona, in Giappone l'agricoltura naturale che, come dire, c'è un movimento che già andava avanti, che si chiama Shizen No Ho. In inglese sarebbe Nature Farming, non è neanche Natural Farming. E c'erano diverse persone che offrivano alla questa strada con la loro filosofia e anche con la loro pratica. e Fukuoka era uno delle persone che, diciamo, offriva questa strada e viene conosciuto nel mondo occidentale. Però c'è un grande movimento anche prima del Fukuoka e anche ora che sta andando avanti. È una piccola e grande rivoluzione. Io sono probabilmente tra quelli che pensano tanto, ragionano con la logica e quindi per me devo dire che faccio un po' di fatica con questi concetti. Mi affascinano tantissimo. Chissà, magari un giorno verrò a trovarvi e vedrò con occhio, toccherò con mano e mi si aprirà un mondo. Credo che queste sono esperienze che vanno vissute per entrarti proprio nell'anima. La teoria l'ho capita. No, non puoi capire. Non l'ho capita. Vedi, io altra volta sono caduta la mia logica. Io capisco, non capisco, ragiono. Puoi sentire. Posso sentire. Puoi sentire. Direttamente dentro quello di cui stiamo parlando. E ricordiamo che tutti i vostri eventi corsi, palline di semi, eventi di palline di semi, eccetera, sono tutti gratuiti, giusto? Voi diffondete, vi fate portavoce di questa filosofia per il piacere di farlo. Viviamo nei giorni molto seri. Non è un gioco. Quindi o cambiamo qualcosa come l'umanità oppure entro pochi anni e non ci sarà più la vita in questo mondo e non c'è più tempo da perdere, non c'è più l'energia da spaccare, però dobbiamo muoverci e condividere questo regalo di Foucault che ci ha lasciato con tutte le persone che è interessato. Gli eventi, laboratori, riforestazioni, sono tutti gratuiti e aperti per tutte le persone. se vogliono fare una donazione all'associazione per organizzare altri eventi se ognuno è libero, non vuol dire solo una donazione con i soldi, però può essere una donazione anche con la presenza, una donazione per preparare un orto nei diversi parti o qualsiasi cosa. Non parliamo di solo del denaro. Anche già qualcuno che metta a disposizione ad esempio il proprio terreno per poter far vedere alle persone questo metodo per poter ospitare Kutluhan che parla di questa filosofia dell'agricoltura naturale, già quel è un dono enorme, tant'è che per l'anno prossimo abbiamo più di 40 richieste in giro per tutta l'Italia per organizzare laboratori. E lì entri in gioco tu Rubina che ti occupi della gestione di questi incontri. Sì, allora io sicuramente questo è quello che sono stata chiamata a fare all'interno della rete agricoltura naturale e lo faccio con molta gioia perché si entra in contatto con persone con valori e sentire molto molto simili e condivisi. È davvero indifferente il punto di partenza di ognuno, c'è chi è un privato, c'è chi è una comunità, c'è chi è un ecovillaggio, chi è un'azienda agricola, ci sono davvero tante situazioni differenti, la cosa che per me per Kutluhan importante è la serietà dietro le persone nel senso che ovviamente dobbiamo fare delle scelte perché tu immagina che abbiamo 40 richieste vorrebbe dire per lui essere via letteralmente ogni fine settimana dell'anno per poter andare a devaderle tutte, dunque dobbiamo fare una selezione delle realtà con cui magari risoniamo di più e dunque cerchiamo sempre di dare la precedenza a chi è già all'interno di un cammino di autosufficienza di coltivazione del proprio cibo con varie metodologie però qualcuno che ha intenzione di partire che ha intenzione di mettere le mani nella terra e iniziare con questa strada ecco poi c'è da dire che l'anno prossimo saremo anche tanto all'estero perché non organizziamo solamente laboratori in Italia ma anche appunto fuori in realtà siamo anche appena rientrati da un viaggio in Africa dove anche abbiamo portato l'agricoltura naturale e il primo laboratorio del 2023 sarà in Spagna dunque come dice sempre Cutran l'agricoltura naturale è un movimento infinito nell'amore e io direi anche nello spazio a questo punto perché ci spostiamo in base a dove veniamo chiamati insomma ecco e che risposta ricevete generalmente dalle persone che frequentano questi eventi questi corsi c'è un denominatore comune? ma ogni laboratorio è diverso vero Cutran? sì credo anche io è molto dipendente da tutti i partecipanti dal tipo di situazione e di energia che si crea che si condivide in quel momento ci sono laboratori che letteralmente esplodono come vulcani come è successo ad esempio in Belgio o in Salento in Puglia e altri laboratori dove magari vengono toccati toccati alcuni cuori su 50 partecipanti ne vengono toccati due ma con i cuori poi iniziano a partire nella strada dell'agricoltura naturale quindi ogni laboratorio è un po' un'avventura una sorpresa se è stanto ogni volta stupendo è bellissimo il fatto che vi siate presi questa questa missione veramente sul serio e come vi ci dedichiate per il gusto di farlo e per l'importanza dell'impatto di questa missione su di noi sui nostri cuori sul nostro pianeta quindi davvero complimenti credo che questo vale per tutte le cose che non è importante l'agricoltura o medicina o relazioni o qualsiasi cosa se uno vuole veramente diciamo arrivare a un bel punto per offrire la luce la bellezza al mondo deve essere serio e dedicato in qualsiasi cosa che lo fa se no una spacca energia perdita del tempo sì ci deve essere anima e cuore anima e corpo in quello che in quello che facciamo dunque altrimenti perché lo facciamo quindi per me per Cutron adesso è magari l'agricoltura naturale come diceva lui per te può essere ad esempio farei i podcast la comunicazione ognuno ha il suo modo di portare luce in questo mondo dunque non c'è un'altra metodologia per farlo questa è l'unica via siamo d'accordo vi faccio i miei complimenti siete due persone deliziose mi ha fatto molto piacere chiacchierare con voi mi avete un attimo come dire scosso la mente per il momento e il cuore verrò sicuramente a trovarvi prima o poi quando vuoi ti aspettiamo grazie mille ragazzi un vero piacere mi mando un abbraccio forte grazie a te Valentina grazie buona buon non fare grazie ciao grazie grazie di nuovo a Cutlucan Osdemir e Rubina Varago per essere stati ospiti di Permacultura con te Cutlucan tiene regolarmente un workshop di agricoltura naturale e festival di palline di semi troverai i suoi contatti e riferimenti nella descrizione dell'episodio spero davvero che questa chiacchierata a tratti surreale ma che io ho trovato illuminante ti sia piaciuta nei prossimi episodi continuerò a proporti idee interessanti e spunti di riflessione sulla permacultura per non perderteli iscriviti al podcast grazie e buona permacultura ciao 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 Grazie a tutti.